Gara tra New Real e Patatrack e gli amici del cammello, ultima partita giocata nella sedicesima giornata in questo sabato con gli amici del cammello e New Patatrack in una formazione rimaneggiatissima, si gioca infatti un inedito 5 contro 5 per New Patatrack come al solito tante le assenze e c'è come al solito però l'efficace Liotti, le liti hanno portato alla sessione del New Patatrack anche di Mariconda trasferitosi nella festa dei pollici. Adesso Pitoni, si inserisce circolo, è andato alla conclusione da una buona posizione, la palla però è stata parata, ci sarà la rimessa laterale, la rimessa laterale va Chico Erra, il capitano, premestre la vecchia, questo oggi la fascia però è sul suo braccio, Erra, prova ad andare, si rifugge all'indietro, gli amici del cammello sono rimaneggiatissimi, non ci sono infatti Pipitone, Tramma. Caccio d'angolo con Erra, anzi no eccolo qui Tramma, Erra, il tiro cross Sorrentino allontana, poi Pitoni prova ad andare, viene fermato però allora Chico Erra punta ma non supera Liotti, Liotti supera la vecchia, poi il pallone viene perso, ancora Gianfranco la vecchia che prova ad andare, sempre la vecchia, allarga il gioco, il pallone però troppo lungo, palla che va laterale, Sorrentino, terza partita per Pitoni che batte il record di Prodomo, anzi no, per poco eh, Pitoni non batte il record di Prodomo, cinque partiti di fila nel Torno Sanazzaro. Diotti, prova ad andare, larga il gioco, palla Sorrentino col mancino, potrebbe anche calciare, ci pensa, può perdere il pallone, Erra lo riconquista, palla che viene riconquistata, se non lascia, dovrebbe essere laterale per gli amici del cammello, così infatti, pallone dato lungo per il palo, come si chiama Gianfranco, Tramma, il palo flamoroso di Tramma, di prima intenzione, la palla che termina sul palo, cerchiamo quest'ultima azione, poi interromperemo il nostro collegamento, vediamo la palla per Gliotti, Pitoni, aggredito da Tramma, supera un avversario, poi Tramma lo ferma, la palla per la vecchia, la vecchia, la vecchia, la vecchia, sta giusto il pallone, perde l'attimo, Sorrentino, l'ex compagno di squadra lo va a fermare, quel pallone, gestito con troppa calma, come dice Pitoni, con sufficienza, poi Tramma, Erra, Erra, attenzione, tiene il pallone, Erra ancora, il tiro, la palla che termina sul fondo, interrompiamo il nostro collegamento.